La crisi economica in Cina ha fatto crollare tutte le principali borse internazionali, partendo da quelle d'Oriente, dove Shanghai è chiuso con un meno 8,49%, non fa eccezione Hong Kong che ha perso il 4% e Tokyo il 4,61%. Anche le principali borse europee sono andate in segno negativo e molte sono state le sospensioni alla borsa di Milano, dove l'indice ha chiuso con un meno 5%. Una situazione non facile, considerando che la crisi, partita con la svalutazione dell'Ouan, la moneta nazionale cinese, è nel giro di tre giorni, i mercati azionari mondiali hanno perso circa 5 miliardi di dollari.